Attenzio! Questo giovedì video nuovece gravamente su un saluto del vostro portafoglio Collezionisti! Eccoci qui pronti a fare l'unboxing di Calciatore Cundown 2022-23 Non altro che il calendario dell'avvento della Panini dedicato alla Drain XL e tanto alto del mondo Panini All'interno di questo calendario dell'avvento treremo 17 bustine dell'XL Plus, una bustina premium Più 48 figurine esclusive, perché obiettivamente non me l'aspettavo ma ci sono anche qui le figurine esclusive Poi divise comunque in pacchetti, più un poster Il prezzo di questo calendario dell'avvento è di 34,90€ quindi decisamente un prezzo abbastanza importante Però comunque c'era veramente tanta roba al suo interno, ci stava questo prezzo Lo so che aspettavate questo video e finalmente sono qui a portarvelo Ammetto che inizialmente non volevo acquistarlo però poi mi sono fatto prendere mano, l'ho visto in edicole e c'è che lo porto sul canale Come sempre vi ricordo iscrivetevi al mio canale, sta proprio qua sotto, è competente e gratuito come sapete Questo è un canale di matricosismo come il sottoscritto E vi ricordo anche se in cui mi sono i social, Instagram, TikTok, che rega su Instagram Lo rimane sempre su tutto, ruki, uscite, torite e quant'altro Mentre su TikTok porto un sacco di Spocket 20x, la prematica e il turismo come me Regà sono veramente curiosissimo di vedere questo calendario dell'avvento, soprattutto le figurine esclusive Che poi sicuramente le metterò nel set calciatori 2223 che uscirà brevissimo Seconda e terza settimana di dicembre Detto questo non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a fare sto fucking unboxing, vamos Collezionisti, eccoci qua pronti a fare l'unboxing di calciatori countdown 202223 Devo dirvi che come l'anno scorso e così come mi aspettavo è bello bello grosso Infatti non ci sta neanche nell'inquadratura, vi mostro quanto quanto è grosso Ovviamente essendo un calendario dell'avvento ci saranno 24 caselle da aprire E oggi ovviamente ce le apriremo tutte Questo regà è il front in cui vi dice che all'interno ci saranno 17 bustine adreni Una bustina premio e 48 figurine più un poster Il retro essenzialmente è uguale, l'unica cosa che cambia è che c'è scritto il prezzo di 34,90 Ma ora non perdiamo tempo e andiamo subito ad aprire il contenuto Tiriamo via tutta tutta quanta la pellicola e ce l'apriamo tutto in un unico video Però se non lo apri subito questo non sarebbe un canale di Mati in collezionismo Andiamo subito ad aprirlo a modo di libro Ho allargato un po' la visuale così si vedevano bene tutte quante le caselle E partiamo proprio dalla numero 1 che è la casella del Milan Sicuramente l'hanno messa il numero 1 solo perché ha vinto il campionato lo scorso anno Adesso appena riesco a capire come si apre Ok E abbiamo la prima bustina signori che andiamo subito subito ad aprire E vediamo cosa contiene Ah e tra parentesi prima non ve l'ho mostrato Ma abbiamo una specie di album molto piccolo Dove inserire tutte le figurine che troveremo all'interno di questo calendario dell'avvento E abbiamo anche un super poster che è molto grande Dove inserire altre figurine che troveremo dentro al calendario dell'avvento Io comunque farò il set che poi allegherò calcetto di W23 Prima casella tra l'altro del Milan Lo scudetto del Sassuolo Lo scudetto del Milan ovviamente Lo scudetto della Serritana Lo scudetto dell'Ellas Mike Magnal portierone ottimo Poi abbiamo la Fiorentina che esulta Il Lecce pure che esulta Infatti fantastico Poi abbiamo il Sassuolo sempre che esulta Casella numero 2 La Fiorentina E vediamo Tac Al suo interno ci troviamo una bustina dell'XL Abbastanza mal ridotta In teoria sono plus Facciamo il classico trick Che magari ci escono anche quelle che mi servono E abbiamo Ricky Sabonara della Viola Basic della Lazio Idolo Bonaventura Ha fatto malissimo il trick mi sa Humon Diamante Classico codice Pichel E Miraggiuc Casella numero 3 E questa qui dell'Ellas Verona Altra bustina di Adrenalin Vediamo se ci esce qualcosa di interessante Abbiamo il logo dell'Empoli Il mister Zapatone Del Lecce E anche Singo Il numero 4 è il Sassuolo E altra bustina di Adrenalin Mamma mia comunque che brutto Vederle in queste condizioni Le bustine Ma Polina Poi devi fare una roba fatta meglio Dai Abbiamo il codice Singo Diamante Idolo Kim Poi cosa abbiamo Mandragora Pussetto Quagliarella Numero 5 Ed è l'Udinese Altra bustina di Adrenalin Dai che voglio arrivare alla vigilia di Natale Che è il numero 24 Dai Qui cosa abbiamo Classico codice Che vi regalo La checklist Quaratscheglia Stella Ottimo La tengo molto molto volentieri Poi abbiamo Toravest L'allenatore del Sassuolo Poi abbiamo Felipe Anderson Baez E Ferrer Comunque appena cominciato la figurina di Quaratscheglia Il numero 6 Voi non lo vedete Ma è il logo Panini E abbiamo un'altra bustina di Adrenalin Io sto aspettando le figurine esclusive Dai E abbiamo Raspadori Delle car girate Che sono Piazza dell'Empoli Ciurria del Monza Passiamo al Baronetto Rabiot Poi abbiamo D'Alessandro del Monza Idolo Mota E il codice Che vi regalo Il numero 7 È la magica E qua ci abbiamo Una bustina di figurine Esclusive Che prendo E me le metto in tasca O meglio nel set Scudetto dell'Empoli Scudetto dell'Udinese Poi abbiamo il Monza Che va in esultanza L'Inter Che va in esultanza L'Ellas Che sta esultando L'Udinese Poi abbiamo la Roma Bellissima Quella con Bala E dietro Chi è quello dietro? Regà ma chi è quello dietro? Vabbè Ditemelo voi E Quaratscheglia Del Namoli Questa è stupenda Numero 8 Signorie dello Spezia E abbiamo una bella e buona bustina di Adrenalin Ovviamente E abbiamo Marin dell'Empoli Mister Sarri Passiamo a Coppola Dell'Ellas Palomino dell'Atalanta Classico codice che vi regalo Poi abbiamo Diamante Ocoli E Saetta Lazzari Andiamo col numero 9 Che è il logo della serie A Ed è un'altra bustina di Adrenalin Marridotta Malconcia Vediamo cosa esce Vedo già la lettera A E abbiamo Dicevo lettera A Stella Muriel Passiamo a Bremer Poi abbiamo Mister Alvini Poi abbiamo De Silvestri del Bologna Ismaili E un giocatore del Lecce Che è Borgman Vabbè non lo pronuncio Numero 10 Abbiamo la Sampdoria E altro bustina di Adrenalin Mi sa che lo distruggerò Questo calendario dell'avvento Di sto passo Dai dai Vediamo cosa trovi Abbiamo lettera L Intoccabile Beresinski Mister Sottil Bonazzoli Della Selleritana Classico Di Maria Classicissimo Federico Di Marco Dell'Inter E Ferrari Alla numero 11 Abbiamo qui in basso Il Lecce Abbiamo un'altra bustina Di Adrenalin XL Vediamo ora il pacchetto Cosa fa Kim contiene Dai E abbiamo il codice Che vi regalo Le regole del gioco Charles De Catteler Stella Kim Idolo Poi passiamo a Bonazzoli Ancora della Sernitana Burabia dello Spezia Englesen del Lecce E Valeri Numero 12 È la Lazio E altro bustina di Adrenalin Apprendo queste Siamo ufficialmente A metà calendario dell'avvento Dai Ho provato a fare una specie di trick Abbiamo Simeone Pezzella del Lecce Caputo del Sampdoria Poi passiamo a Tonnelli Dell'Empoli Classico codice Poi abbiamo Fantastella Frattesi E Lorenzo Di Silvestre Idolo Andiamo dalla numero 13 Che è la casella della Sernitana E abbiamo una bustina Di card esclusiva Vediamo cosa ci esce Se riesco ad aprirlo Ok E abbiamo Scudetto del Monza Scudetto del Torino Passiamo al Scudetto dell'Atalanta Poi abbiamo lo Scudetto Anche della Juve Il Napoli Che va in esultanza Il Torino Che va in esultanza La Juventus E attaccante Paolino Di Bala Questa è maestosa Casella numero 14 Andiamo dalla Juventus Vediamo cosa esce Qua bustina di Adrenalin Dai Facci uscire almeno un top player Dai Che lo so che ci sei E abbiamo il codice Idolo Bandinelli Poi abbiamo Zirkze del Bologna Baschirotto del Lecce Zlatan Ibra Imo Vincioro Alex Mere E poi abbiamo El Sharawi Andiamo dalla casella numero 15 Che è dell'Atalanta Ovviamente abbiamo un'altra bustina Di Adrenalin XL E vediamo che ci esce ora E abbiamo il codice Intoccabile Maxime Lopezza Etta Lazzari Dell'Ufeu Plus Poi abbiamo Mister Spalletti Demiral dell'Atalanta E Terracciano Casella numero 16 Che equivale a quella del Torino E abbiamo una bustina premium Signori bustina premium Vediamo se ci esce quel Cirozzo immobile firmato Che ancora mi manca Dai 5 euro di bustina Di Camie Pellegri del Torino Che mi sta accadendo Matici della Roma Augello della Samp Arnautici del Bologna Poi abbiamo Cialanoglu Cialda Croccante Classico codice Che vi regalo Poi abbiamo Premium lettera B Questa dovrebbe essere doppia Limite di Edition Troi Mi serve immobile firmato Stella Molina Poi abbiamo Diamante Traore E Zaccagnidolo Poteva andarci decisamente meglio Ora andiamo dal numero 17 Che è l'Empoli Abbiamo una bustina Adrenalin Che palle ma potreste Far uscire dal calendario dell'Avento Una bella toffero L'Invincibile Lettera Y Classiche regole del gioco Con lo scudetto della Violo O ancora meglio L'Uragano Sarebbe fantastico Bigol Provedere della Lazio Poi abbiamo Alessandro della Juve Perin sempre della Juve Frattesi E basta Andiamo alla numero 18 E cioè il Bologna Ma do regà Non le sopporto su Viu Perché hai delle bustine Delle XL E abbiamo Lettera L Classiche regole del gioco Magic 4 della Roma Che è una buona card E lo scudetto dell'Udinese Mister Italiano Poi abbiamo Chirikesh Passiamo a Ferrari della Samp E Barberis Andiamo alla numero 19 Che è lo scudetto del Napoli Ole Abbiamo un pacchettino di figurine Che quando vedo queste Le sto amando Piuttosto che le bustine Adrenalin Anche perché non ci stanno dando nulla Scudetto dello Spezia Scudetto del Bologna Passiamo allo scudetto del Napoli Scudetto anche dell'Inter Poi abbiamo l'Empoli In esultanza Lo Spezia sempre in esultanza Anche il Milan E poi abbiamo Sergei Milikic Savic Centrocampista totale Numero 20 signori Il Monza Incredibile ma vero Abbiamo un'altra bustina Quindi due di fila Di figurine E abbiamo lo scudetto del Lecce Lo scudetto della Samp Il Bologna che va in esultanza Abbiamo anche l'attaccante Duvan Zapata Poi abbiamo La Lazio che esulta Il Romino Lukaku dell'Inter La Sampdoria che esulta L'Atalanta che esulta E basta Numero 21 La Cremonese Bustina di Adrenalin Guardate non l'ho ancora aperta Ma sono già deluso del contenuto Chissà com'è mai E abbiamo la lettera E Le regole del Gio L'Invincibile L'Invincibile signori Not Not Ben L'Invincibile Ero deluso ma Non lo sono più Grazie Pagni Grazie Questa la metto già qua Poi abbiamo Verdi dell'Ellas Mister Cioffi dell'Ellas Capitano Immobile della Lazio Scesni della Juve E Smalling Regà per davvero Ci ha dato l'Invincibile Ma Steam Famic Ci ha dato l'Invincibile Per davvero Andiamo ora Dalla numero 22 Dell'Inter E ancora non ci sto a credere Abbiamo un'altra bustina Adrenalin Vabbè dai Ora sono deluso veramente Non può uscirci un'altra Invincibile O chissà che cosa E abbiamo Lettera D Diamante Serginio Dest Silvestri Intoccabile Poi abbiamo Mister Murino Della Roma Terry Nuova Firma Dell'Ellas Buonaventura E Linetti Collezionisti Andiamo ora con il numero 23 Che si trova qua in basso Andiamo subito ad aprirlo E abbiamo una bustina Adrenalin Comunque signori È ufficiale L'ho devastato Questo calendario dell'Avento Non penso riuscirò a tenermi in collezione E abbiamo Lettera N Scudetto dell'Udinese Vilena della Salernitana Dronkowski dello Spezia Cup Miners dell'Atalanta Buonissimo Calulu del Milan E Davidovic Signori Siamo arrivati all'ultima casella Il numero 24 Ed è qui in alto Abbiamo l'ultima bustina di sicurina esclusive Quindi molto probabilmente dopo andrò a buttarlo Ma comunque ne cercherò di acquistarne uno Per tenerlo sigillato in collezione E abbiamo lo scudetto della Roma Lo scudetto della Fiorentina Lo scudetto della Cremonese Lo scudetto della Lazio La Cremonese che esulta Luca Jovic Il neo acquisto della Lazio Il fideo di Maria Il neo acquisto anche della Juventus E poi abbiamo la Salernitana che esulta Signori Abbiamo spacchettato il calciatore Candown 2022-23 E bene o male Quello che mi aspettavo Anche le figurine esclusive Me lo aspettavo più o meno Una cosa che sicuramente non mi aspettavo Era invece l'invincibile Ma devi sapere nei commenti Se voi prima o dopo Riuscite a trovare un top player E uno invincibile Vi ricordo Come sempre Di iscrivervi al canale Sfondare il tasto like Seguimi su tutti i miei social E detto questo Ci vedete al prossimo video Ciao Ciao Ciao